E sempre parlando di modelli universali, anche Francesco Petrarca ha costituito un modello, ai suoi tempi, di cultura europea. Ecco, quindi oggi, professore, proprio in questo modello di globalizzazione, ritorna comunque all'attualità di Petrarca? Certamente, Petrarca è stato il primo uomo europeo, non solo perché attraverso la liberalità del Cardinal Colonna ha potuto viaggiare per l'Europa, ritrovare i codici antichi, andando da Colonia a Roma, facendosi incoronare a Napoli e poi a Roma, scrivendo in italiano e in latino. Ma soprattutto nella nostra opera il Petrarca è importante perché fornisce il primo modello di dialogo tra lettura e le arti, perché i suoi trionfi, che poi sono stati lungamente illustrati in una tradizione mirabile, sono quasi la ricapitolazione di tutto ciò sul quale l'uomo deve trionfare, fino a portarlo dall'amore alla morte alla fame e poi all'eternità. E ognuna di queste tappe è sempre stata, specialmente nell'umanesimo, mirabilmente interpretata. Quindi noi possiamo pensare a Petrarca come il trionfo di una cittadinanza europea che gli introduce e poi tutti l'hanno seguito. In Italia evidentemente tutti i petrarchisti e in Europa Shakespeare e così via, fino ai contemporanei. Insomma, ancora anche nei tempi recenti ci sono poeti che, come ricordato Mandelstam, ma anche Schar, che ha scritto delle pagine mirabili su Vaucluse, hanno appunto imitato il Petrarca. Grazie. Grazie.